Stasera esploreremo da diversi punti di vista, proprio grazie a due ospiti diversi e complementari. Torno al blu, un valore molto vicino alla media del secolo precedente e vedete come progressivamente spostandosi verso gli anni vicini a noi il colore dominante diventa un colore rosso, questo è poi l'effetto Serra, quello naturale ci aiuta a vivere, quello che tiene la terra moderatamente calda e non gelida, è il contributo aggiuntivo dell'uomo che sfalsa la definizione e lo rende in qualche modo negativo. Il tema migratorio incrocia non soltanto appunto il tema dei cambiamenti climatici, incrocia il tema delle disuguaglianze, incrocia il tema appunto della forza economica di che riesce a partire. Grazie a tutti.